Ciao, mi chiamo Emanuele Durante, sono nato a Lucca il 16 dicembre del 1988. Cercherò di essere breve. Il mio percorso artistico comincia come cantante in una band, dove conosco questi ragazzi mentre lavoravo nella pezzeria di mio padre. Successivamente ho partecipato a un musical con dei ragazzi di Pistoia. Il mio percorso artistico inizia proprio nella città di Pistoia, anche se io sono lucchese, perché appunto la pizzeria di mio padre era a Pistoia. Nel 2015 mi iscrivo a un corso di doppiaggio. Ero affascinato dal mondo della voce, della vocalità e comunque dei film, ma anche stranieri, americani, francesi, e mi sono sempre chiesto come potessero parlare in italiano. E allora ho cominciato questo corso di doppiaggio. Sotto consiglio di uno dei miei insegnanti, mi sono trasferito a Roma nel 2017. E da fine 2017 lavoro stabilmente, diciamo, nel doppiaggio. Poi nel 2020, in tempo di Covid, ho cercato di capire bene che cosa potessi fare. Abbiamo avuto un bel po' di tempo per riflettere. Ah, ovviamente in questi anni di Roma ho frequentato una scuola che si chiama la Step Brancaccio. Ho studiato con Augusto Zucchi e con Ennio Coltorti. Comunque nel 2020 mi decido a mettermi in gioco, diciamo, anche con il cinema. E riesco a trovare questa agenzia, la Cantera Management, che ancora oggi mi rappresenta. In questi quattro anni abbiamo fatto diversi lavoretti. abbiamo partecipato a Don Matteo, Blanca, I Viaggiatori, Denti da Squalo. E l'ultimo lavoro che ho svolto è una docu-fiction che ancora non è uscita, dove faccio un frate obriacone. E dove mi sono ispirato un po', diciamo, a Frattac di Robin Hood. Mi sono divertito tantissimo. e devo dire che questa esperienza mi ha arricchito molto anche dal punto di vista proprio logistico. Ho capito i reparti, ho capito come si lavora in gruppo, ho capito che cosa fa scenografia, ho capito che cosa fa... Quindi stare sul campo mi è servito proprio anche per questo. E poi stare sul campo comunque un mese di fila, perché questo ruolo era un protagonista, eravamo cinque protagonisti. Credo di avervi detto tutto, o meglio, quasi tutto. Vi ringrazio e spero di vederci presto. Ciao.